Diciamo che tutte le istituzioni, tutti gli attori in campo oggi nel nostro paese sono uniti. Diciamo che l'opposizione con il leader Salvini non ha perso l'occasione oggi per così dire delle parole parole volgari, scurrilli, quindi mi scuso ma cito testualmente. Salvini dice battiamo il virus e poi se serve salutiamo l'Europa a cui dedico un pensiero di schifo e vergogna, andate a cagare. Scusate ma lei cosa risponde a Salvini? Che io credo che questo sia il momento del coraggio non delle volgarità anche perché non è che con questa frase abbiamo risolto il problema dell'Italia o il problema del popolo italiano, né abbiamo superato la crisi del coronavirus né con queste frasi riusciamo ad ottenere qualcosa in più ai tavoli europei. Però vorrei che si stabilisse un principio. In questi giorni non si sta decidendo il futuro dell'Italia nell'Unione Europea. In questi giorni l'Unione Europea sta affrontando una crisi senza precedenti e sta decidendo il suo destino. Non ho capito perché in questo momento ci sia una parte in Italia che voglia fare il gioco magari di chi non vuole l'Italia nell'Unione Europea. Se ci pensiamo un attimo, qui tutti dovrebbero chiedersi può esistere un'Unione Europea senza l'Italia? Secondo me no. Quindi qui non stiamo parlando di Italia dentro o fuori dall'Unione Europea. Qui stiamo parlando. L'Unione Europea in un momento di difficoltà è in grado di essere lo strumento comune per affrontare i problemi economici e sociali dei suoi popoli, del suo popolo europeo? Può esserlo, ma sarà una trattativa veramente difficile. Paolo.